Sono loro che non lo vogliono fare di fronte a voi, io invece sono dell'idea opposta che proprio parlo davanti a voi mi ecciterebbe parlo. E' tutto bagnato, un'altra figuraccia mi hai fatto, è tutto bagnato dalle cose che mi avete ridato, sei ridinato sto nasso, non è più il cazzo che avevo prima, i mortacci vostri! Mi ritornerà quando tornerò a casa stasera! E per eccitarmi, per eccitarmi, penserò a voi! Io non so manco dove sono finite le sigarette, sono tutte bagnate! Io non so manco dove sono finite le sigarette! Io non so manco dove sono finite le s ordeni! Io non so manco dove sono finite le mögliche! Io non so manco dove sono finite le sig interested! Io non so manco dove sono finite le Spiegenio! Cazzetto, cassetto, 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 cassetto. C'è un cassetto? Cioè voi avete messo tutti i vostri sogni in un cassetto e poi avete buttato la chiave? Eh? Ma voi medallari, amanti di roccia, accendete la miscia che ha una razza settenta. Nell'armadio non resta che il chiodo di razza di uno sporco piaccista. Cazzetto, cassetto, 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 cassetto. Cazzetto, cassetto, 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 cassetto. Guarda, è tutto maniato. Tra poco per un anno, guarda. Sono disperato. Ogni volta che sto in vostra compagnia, mi fate disperare. E allora io ho deciso di raccontarvi una storia. La storia di Marlin Manco! Vedete? Mi stavo vedendo pure dei ticche nervosi. Quando voi mi vedete fare così, mi stanno vedendo i ticche nervosi, i uomini. Svegli quando sento il nome Pappalardo. Pappalardo. E sto passavano a Mike Cooper. E sto piccolo ragazzetto, pagro, pagro, con i pantalucini, non tanto corti, ma fino a ginocchio. Tutto bianco sul mondo. Ma veniva a vedermi quando io ero più truccato di adesso, andava di moda il trucco. Anzi, il trucco era un modo per rivoltiare ragazze. Quante ragazze sono venute da me a dirvi, perché te crucchi? E io gli rispondevo, vieni un po' in là, che te lo faccio capire. In me che non si dica, il cazzo era diventato gigantesco. Come la sola fottuta è un cazzo. Ho venito sempre ai miei concerti con papà. Io sono sicuro che lui, guardandomi da piccolo, abbia preso delle cose mie. Perché io andavo in giro vestito come Marlin Manson. Lo potete verificare su internet? Tre tanti anni fa. Tre tanti anni dopo è lui, capito? Per cui qualcosa gli avrò lasciato. E questa è la storia di Marlin Manson. E questa è la storia di Marlin Manson. E questa è la storia di Marlin Manson. E questa è la storia di Marlin Manson.